Grazie per l'invito. Ecco, grazie a lei per essere qui. Lei, oltre ad essere vicepresidente dell'Ordine Avvocati di Milano, è anche tra le promotrici, ed è questo anche il motivo della nostra chiacchierata di oggi, di un'iniziativa molto particolare. Si chiama Noi Avvocati, è un gruppo di 30 avvocati e avvocate che hanno unito le loro forze in vista del prossimo congresso forense di Lecce, che è in programma a ottobre, ed è proprio per le elezioni per i delegati al congresso e quindi a far parte di queste assise anche a livello attivo dal punto di vista delle proposte. Lo ricordiamo, sarà un appuntamento cruciale quello del congresso forense di Lecce per l'avvocatura, per i temi che si stanno accumulando. Ricordiamo il Consiglio nazionale forense ha ripreso da poco in via continuativa la propria attività che è restata in stand by per gli anni purtroppo della pandemia e soprattutto ultimamente, proprio nei giorni scorsi, sono emersi in via ufficiale i dati che tutti noi un po' ci aspettavamo, tutti noi addetti ai lavori, ovvero l'effetto Covid sulla professione forense che ha portato per la prima volta nella storia a una diminuzione degli iscritti all'albo degli avvocati. Dovuta tra l'altro, ed è questo anche in particolare un motivo per la nostra chiacchierata di oggi, per impostare la nostra chiacchierata di oggi, in particolare alle cancellazioni da parte di donne avvocato, circa 6.000 su 8.700. Avvocato, io ho parlato anche troppo, lascio la parola a lei se può illustrarci anzitutto il perché di questa iniziativa noi avvocati. Certo, certo, grazie. Allora, ha detto giusto, ha detto correttamente lei, a ottobre ci sarà il congresso, il congresso forense indetto a Lecce, si terrà a Lecce e il congresso per noi avvocati è un momento estremamente importante perché il congresso è, diciamo così, la massima assise degli avvocati, il luogo di incontro dei delegati dei singoli ordini, dell'ambito del quale parlare dei temi di rilievo attuali e importanti per l'avvocatura. Quindi in questo momento, un momento come ha detto lei, un po' particolare per l'avvocatura, mi permetto di dire un po' particolare per l'economia, un'economia mondiale, un'economia italiana, veniamo, lo ricordiamo molto bene purtroppo da due anni di difficoltà per il Covid, e chiaramente questo momento, la pandemia e il post-pandemia ha inciso su tutte le attività professionali e ha inciso naturalmente anche sull'attività lavorativa di noi avvocati. Allora a breve noi avremo a maggio le elezioni dei delegati perché chiaramente gli avvocati scritti agli ordini vengono chiamati a delegare i loro rappresentanti al congresso forense e ci siamo accorti nel fare questo gruppo che naturalmente è un gruppo di professionisti che appartengono a tutti i rami del diritto, che sono esperti nei vari rami del diritto, non parlo in questo momento di specializzazione perché sappiamo che peraltro è uno dei nostri temi congressuali, è tutto pronto ma non sono ancora partite le specializzazioni. E allora questi avvocati, questi 30 avvocati esperti dei rami singoli del diritto, si presentano come candidati per queste elezioni e quindi per essere delegati. Ci siamo però accorti che in questo contesto l'avvocatura è un po' distratta, un po' disattenta, poco attenta all'importanza di questo momento che è il momento congressuale. Perché è così importante? È importante perché è il momento nel quale noi possiamo confrontarci e possiamo confrontarci su quei temi che devono poi essere portati all'attenzione della politica per un miglioramento della nostra professione sotto tutti i profili. Ecco perché noi come gruppo, quindi noi avvocati, abbiamo individuato quelli che sono i temi congressuali che noi riteniamo più importanti in relazione alle indicazioni naturalmente che ha dato il CNF e abbiamo individuato tanti temi che abbiamo indicato sul nostro sito, quindi il tema delle modalità di accesso alla nostra professione, per esempio, un tema importante. Abbiamo fatto in questi anni, abbiamo visto come abbiamo svolto, i giovani hanno svolto un esame differente proprio per il fatto che non si potevano fare gli iscritti. Vogliamo trarre la positività, quello che abbiamo imparato di positivo da questo esame, questo doppio orale, questo tra virgolette esame orale rafforzato. Vorremmo però che qualcosa venisse fatto di miglioramento su quello che è stato fino adesso per fare in modo che veramente sia qualificante l'accesso alla professione e venga vagliata anche la necessità naturalmente di valutare la capacità di scrittura degli avvocati. Ma tanti sono i temi, ho detto la specializzazione, il tema della differenza di genere, il gap retributivo tra uomini e donne, che è un tema al quale lei ha già fatto cenno con riferimento ai dati emersi dalla panoramica fatta dal census per la Cassa Previdenza Avvocato proprio la settimana scorsa. Ma naturalmente il tema ancora della monocommittenza, il tema del Consiglio Giudiziario, della nostra rappresentanza, del nostro potere di voto negli ambiti giudiziari. Noi avvocati possiamo partecipare come membri laici ai Consigli Giudiziari, vi partecipiamo naturalmente per tutto quello che è, ed è un dato importante, è l'organizzazione giudiziaria, ma poi possiamo soltanto partecipare con diritto di tribuna e non di voto per alcuni passaggi fondamentali, per esempio la valutazione dei magistrati, i loro incarichi professionali, i loro step lavorativi. E noi siamo tutti i giorni nelle aule, sappiamo quello che accade, quindi sappiamo anche esprimere la nostra valutazione in questo, così come le evoluzioni che devono esserci all'interno del Consiglio di Disciplina, questo organo che si occupa dei nostri giudizi, cosa modificare, cosa mantenere, cosa migliorare, i diritti che ha il COA, per esempio l'Ordine degli Avvocati, di intervenire sugli esposti. Noi in questo momento non abbiamo nessun diritto di intervenire sugli esposti e neppure di archiviare anche esposti a volte che vengono presentati, che sono esposti grossolani, esposti che evidentemente sono totalmente destituiti di ogni fondamento, ma noi anche di fronte a un esposto così presentato magari strumentalmente a fronte di una richiesta di liquidazione a parcella, non possiamo intervenire e dobbiamo delegare il tutto al Consiglio di Disciplina, che naturalmente viene così gravato e aggravato di una serie di procedimenti anche eccessivi rispetto a quelli invece dei quali ha importanza che si occupi i CDD. Quindi tantissimi sono questi temi, noi ne abbiamo individuati 16 che possono essere analizzati, eletti ad uno ad uno e questo perché questa è la linea del nostro cammino. Poi però abbiamo pensato che è estremamente importante avere un contributo su questi temi da parte dell'Avvocatura milanese e quindi abbiamo avuto questa idea di istituire una Call for Ideas, ovvero di chiedere attraverso il nostro sito all'Avvocatura di intervenire e di darci delle idee, di aiutarci a portare l'emozione al Congresso. Quindi in questo momento noi stiamo facendo un doppio tipo di informazione. Da un lato informiamo gli Avvocati di che cosa è il Congresso, che cosa significa, come si fa a presentare le emozioni, come vanno presentate, quindi diamo loro sostanzialmente i vari step, li informiamo sui vari step che si devono percorrere per arrivare a presentare una mozione e poi per arrivare ad ottenere le votazioni su quella mozione. Ulteriormente chiediamo loro di contribuire con delle loro idee e quindi di darci degli spunti da elaborare con loro, direttamente con loro, per portarli come emozioni naturalmente al Congresso. E devo dire che questa idea, questo Call for Ideas, ha riscosso un grande successo, non solo perché naturalmente vediamo che viene letto, guardato, compreso, ma perché abbiamo le risposte, abbiamo le proposte, alcune delle quali, devo dire, anche molto interessanti. Poi naturalmente verranno discusse nei prossimi giorni e prima del Congresso, ancora prima che delle elezioni. Ma ripeto, sono spunti veramente utili e veramente interessanti. Certo, anche perché poi tra l'altro siete molto attivi anche sui social network, che è una cosa particolare, insomma, e che a mio avviso testimone anche la vicinanza che volete trasmettere tra la parte istituzionale dell'avvocatura e chi effettivamente, insomma, poi la parte che effettivamente svolge la professione. E spesso, diciamo che soprattutto anche nel, insomma, Milano è una piazza molto particolare, no? Cioè l'avvocatura d'affari e spesso è emersa questa distanza tra l'avvocatura istituzionale e appunto la professione svolta poi nel concreto. Guardi, questo è un tema che noi che siamo stati in questa consigliatura al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati abbiamo avuto molto a cuore, cioè il fatto di avere una comunicazione diretta, immediata, costante, con i 20.000, 21.000 avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Milano. E questo già come COA lo abbiamo fatto con tutti i canali possibili e così lo stiamo facendo oggi, perché tutti devono essere raggiunti, ognuno con la propria modalità più facile, più fruibile, perché è veramente importante dare la comunicazione, informare. E tra l'altro proprio il tema della comunicazione, così come il tema della pubblicità, è uno dei nostri 16 punti. Anche sotto questo profilo vanno portate delle modifiche alla nostra legge professionale, perché noi abbiamo una legge professionale che ha quasi timore a dettare le regole della comunicazione dell'avvocatura, ma oggi più che mai è importante per l'avvocatura fare, dare comunicazione nel proprio operato e quindi lo vogliamo fare, lo vogliamo fare senza avere una mappatura di quello che si può e non si può fare, quindi a volte anche sbagliando, però siamo noi che dobbiamo renderci responsabili e quindi dire cosa si può fare, cosa non si può fare e soprattutto cosa è opportuno fare nel 2022. Perché nel 2022 la pubblicità per l'avvocato è un passaggio importante, è un passaggio fondamentale, allora in che modo si può fare, con quali modalità, entro quali canoni? Questo è un argomento estremamente importante del quale noi vorremmo parlare al congresso, al prossimo congresso. Anche perché poi tra l'altro l'avvocato forse è una domanda provocatoria, però l'ordine degli avvocati di Milano spesso anche negli ultimi due anni si è fatto promotore di una serie di iniziative che però non venivano o comunque partivano da Milano o da Roma o dalle singole piazze, ma non dall'avvocatura a livello nazionale, per tutti i problemi che sappiamo e che non è il caso adesso di ritirare fuori. Ora pare che le cose siano cambiate, lei come vede il futuro dal punto di vista di coordinamento tra l'avvocatura nazionale e gli ordini territoriali, anche perché lì in gioco ci sono tutta una serie di nuove sfide, tra cui le specializzazioni a cui facevo riferimento, spesso bloccate proprio anche per via di collisioni all'interno dell'avvocatura stessa. Allora, se c'è una cosa che questo rapporto census, chiamiamolo così, quindi questo rapporto sullo stato dell'arte dell'avvocatura che è stato presentato a Roma presso la Cassa Previdenza Avvocati la settimana scorsa, una cosa che è stata evidenziata è proprio un po' la differenza tra nord, centro e sud dell'avvocatura. È stata fatta una fotografia estremamente importante, non solo a livello reddituale, la capacità di reddito dell'avvocato del nord rispetto a quella del centro, quella del sud, la capacità contributiva rispetto alla cassa, gli ambiti lavorativi, la presenza femminile, sono state fotografate le varie differenze, ma siamo tutti avvocati e quindi dobbiamo lavorare tutti insieme per un bene che è il bene comune. È vero, certamente Milano è una piazza un po' particolare, noi abbiamo gli avvocati d'affari, noi abbiamo grandissimi studi professionali, noi abbiamo società, aziende di un certo tipo che chiedono le nostre prestazioni professionali, molto più che nei piccoli centri evidentemente e quindi forse abbiamo anche delle esigenze un po' particolari, però io credo che le regole devono essere regole uniformi, che valgono per tutta l'Italia, che però devono avere riguardo all'oggi, quindi all'attualità, all'evoluzione della figura dell'avvocato. È estremamente importante la specializzazione, è importante in tutti i fori d'Italia, è importante in tutti i fori d'Italia. Io mi rendo conto delle difficoltà dei piccoli centri nei quali l'avvocato deve un po' saper fare tutto, però oggi non si può più procedere senza la specializzazione, senza una competenza specifica. Noi questo dobbiamo dare ai giovani, la possibilità di esprimersi in un ambito che sceglieranno, prevalentemente in quell'ambito che sceglieranno, che approfondiranno, che approfondiranno con una formazione specifica e poi con una formazione negli anni che andrà ad accrescere le loro conoscenze. Quindi io credo che il congresso in questo sarà estremamente importante, anche per dare il là alla specializzazione. Noi oggi abbiamo tutto pronto, abbiamo un regolamento, certo abbiamo bisogno un pochino di smussare qualche angolo che renda un po' più rapida questa specializzazione, se no sostanzialmente oggi chi ha fatto il corso per la specializzazione, chi ha l'attestato, finisce di dover attendere così tanto per avere il riconoscimento della specializzazione, da arrivare ad avere compiuto gli anni necessari automaticamente per dare prova di avere attivamente esercitato in quell'ambito professionale. Quindi questo non è giusto, ci deve essere una modalità più snella, più rapida per attribuire il riconoscimento del titolo di specializzato. Però questi sono piccoli passaggi ormai, la strada maggiore è stata fatta, è stata fatta lo sappiamo negli anni con una grandissima difficoltà, siamo approdati a un regolamento, adesso dobbiamo cercare di capire come attuarlo nel migliore dei modi in maniera più snella possibile e più efficace possibile. Quindi è importantissimo su questo punto un confronto dell'avvocatura e dell'avvocatura di tutti i fuori d'Italia. Poi naturalmente è chiaro che io ritengo che per Milano, che è proprio una piazza come ha detto lei un po' particolare, Milano debba avere una voce, debba avere una voce in questo perché in tante cose Milano ha avuto la capacità di fare, mi permetto di dirlo, da traino in questi anni, anche nel momento di emergenza, di emergenza da Covid. Milano è stata d'esempio per tante cose, anche per la gestione delle udienze, per la gestione dei procedimenti, ci siamo attivati in tutti i modi, anche aprendo un dialogo efficacissimo con la magistratura in questo senso. Ci siamo attivati moltissimo per gli esami, per permettere gli esami d'avvocato e effettivamente siamo stati molto ascoltati. Abbiamo dato un contributo e questo contributo la cosa importante è che non l'abbiamo dato da soli, l'abbiamo dato unitamente agli studenti, unitamente ai giovani avvocati, unitamente ai praticanti che volevano fare l'esame, unitamente ai giovani, perché i giovani fanno parte di noi, sono il nostro futuro ma sono anche il nostro presente e quindi noi vogliamo dare loro voce, ma al tempo stesso vogliamo avere voce. Deve essere una voce omogenea ma che si fa ascoltare e sa farsi ascoltare, questo è un dato estremamente importante. Assolutamente, ci auguriamo che il modello Milano possa essere allargato a livello nazionale. Quando sono le elezioni? Le nostre elezioni sono il 24, 25, 26 maggio prossimo e invece naturalmente il congresso sarà all'inizio di ottobre. Bene avvocato, in bocca al lupo a lei e a tutto il team di 30 avvocati e probabilmente ci rivedremo poi all'esito di queste elezioni per parlare e poi effettivamente entrare nel vivo anche del congresso forense. Di nuovo grazie all'avvocato Paola Boccardi. Grazie a lei, grazie appunto di aver avuto questa possibilità di parlarvi del nostro programma, un invito a tutti di venire a votare. Una call for ideas. Grazie, arrivederci. Grazie anche ai nostri telespettatori per essere stati con noi e restate qui sulle fonti tv.